Ciao ragazzi, prima di tutto mi devo scusare perché da un po' di tempo che non faccio video perché sono stata molto impegnata per la fiera e per le mie gare però adesso ho portato questo video nuovo quindi non vi spreco altro tempo, iniziamo subito questo video sarà un riassunto dei 4 giorni in 10 minuti perché poi successivamente ci saranno altri video più dedicati a magari le gare e gli incontri ma adesso iniziamo subito con i video Ciao ragazzi, adesso partiamo per andare a Verona, ci vediamo dopo il ciao Ciao ragazzi, siamo quasi arrivati, sono mega felice, chissà come sto rapazzo appena arrivo poi dovrò fare una specie di warm up, cioè farò in campo senza tanti però li farò vedere solo il campo in gara che però giovedì e venerdì la gara non vedo l'ora, ciao! Psyche di schieto, la roba di aminza, la pazza Psyche di schieto, la pazza ragazzi è andata molto bene, ho fatto netto e sono arrivata a guarda in questo video generale Sto camminando in giro e guardate un po' c'è lo stand della Maiorso, andiamo! Ragazzi guardate che bella questa felca Stiamo qui allo stand del Lego 7 Ragazzi siamo qui allo stand della Polizia di Stato e tutti ci chiediamo come bisogna fare per entrare alla Polizia a Cavallo Ma come si fa ad entrare alla Polizia a Cavallo? No, allora innanzitutto devi aspettare che esce il concorso per entrare nella Polizia di Stato Superi il concorso, superi il corso per diventare agente Dopodiché una volta che sei diventato agente aspetti che esce il concorso interno per la Polizia a Cavallo Superi le selezioni, fai un corso di 4 mesi Poi entri nella Polizia a Cavallo, scegli la sede, ci sono 10 sedi in Italia Torino, Milano, Firenze, 4 squadra Roma, Caserta-Napoli, Palermo e Catania Fai la selezione per una squadra e diventi Poliziotto a Cavallo Siamo qui allo stand delle Quick e quest'anno ci saranno un sacco di novità Andiamo a vederle Matteo, visto che ci sono delle novità, che cosa ci sono di nuovo? Allora abbiamo presentato una linea nuova, l'abbiamo chiamata Unicorn Che c'è questo colore rosa più il glitter In più abbiamo tutta la collezione glitter sia in nero sia in marrone Poi abbiamo delle staffe nuove e poi abbiamo gli occhiali per i cavalli Cosa mi consigli per Pat dei vostri prodotti? Allora Pat, io l'ho guardato nei video Pat andrebbe benissimo con quel prodotto lì che si chiama High Performer E gli si dà tutti i giorni per tutta la stagione delle gare E lo aiuterà ad essere più sicuro, più veloce, più forte sul salto Senza incertezze e lo mantiene anche concentrati durante tutti i periodi della gara Sai che molti cavalli si stressano, si agitano e questo lo può aiutare Silvia io adesso per Pat te lo do, ti do assolutamente questo perché tu fai delle categorie alte Che è l'integratore preferito da tutte le mamme e da tutte le figlie e da tutti i cavalli e pony Più giustamente ci vuole il premio alle vitamine, i biscottini alle vitamine Grazie mille, le preverò sicuramente, a presto Me ne sono messi perché fra un paio di tempo uscirà un video completo dove ci sarà tutto quello che ho fatto in fiera Se si preoccupa del cavallo, dell'oggettivo, non si preoccupa della scuola Altra questione genti alle vitamine è sempre più bass a tutti i secdamenti SIFIA! 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 Sì, siamo sul canale di TeleSinthia! Da quanto tempo seguite Silthia? 3-4 anni! Anche te, 2 anni! Dall'inizio del canale avrete dovuto essere una panna di vecchia data, pure te! Da che regione arrivate? Toscana, poi che c'è? Toscana! Toscana! Toscana, poi Piemonte, Toscana! Veneto! Lombardia! Veneto! Lombardia! Veneto! Veneto! Emilia Romagna, c'è tutta Italia! C'è la Sicilia? Ma che c'è lui? C'è la Sicilia, vedi? E la Sardegna? Ecco, c'è pure la Sardegna! Che c'è il Lazio? Il Lazio c'è? Eccole, eccole! Le rappresentanti del Lazio! Ma ci facciamo sentire, per favore! Rappresentanti del Lazio, come ti sei classificata durante queste giornate? I primi due giorni sono arrivata quinta e quarta in classifica generale! Perfetto! Quindi un buon risultato, sei contenta? Tantissimo! Bene, bene, bene! Allora, tutti questi piccoli fan sono qui per te! Allora, tutti questi piccoli fan sono qui per te! Non ci facciamo sentire venir! Non ci facciamo sentire! Allora, tutti questi tipi che scampi e scampi possiti la visione a比opi! Non ho neanche concludo la casa, sono iscritto al canale Trisibia. Grazie per la visione! Iscrivetevi al nostro canale! Iscriviti al nostro canale! Iscriviti al nostro canale!